Torna d'attualità la questione movida nel centro di Trento, mentre qualche locale annuncia di essere costritto a chiudere, altri cercano risposte per dare una soluzione alla domanda di divertimento. Lucio Fava del Piano. A Trento non può mai cambiare niente, perché alla fin fine, Trento è Trento, con tutti i studenti che abbiamo, movita o non movita, ma in città non puoi fare una movita. Si avvicina la ripresa dei corsi universitari e si torna a parlare di vita notturna, musica e orari dei locali. Complice anche l'annunciata chiusura di uno dei bar maggiormente gettonati dai nottamboli più irriducibili. Così i locali del centro sono costantemente alla ricerca del giusto equilibrio, compromessi che spesso portano a scelte sofferte, come la rinuncia alla musica dal vivo, della quale pure ci sarebbe grande richiesta. Eppure non manca chi ha appena deciso di prolungare gli orari. Noi volevamo lavorare più sui giovani universitari, abbiamo visto che comunque la gente universitaria gira e vuole più accendere bara a bara, allora abbiamo deciso di prolungare soprattutto per fare feste universitarie. E se qualcuno propone di individuare un paio di locali sotterranei nei quali sia possibile realizzare delle discoteche in centro, il presidente dei pubblici esercizi, Giorgio Buratti, pone la questione legata a una complessiva visione della città. Cosa deve essere Trento? È chiaro che se noi portiamo Trento a una trattibilità alta e arrivano soggetti con determinate esigenze, dobbiamo sapere che queste esigenze devono essere corrisposte.